Io vedo tante volte il disegno concluso con la toponomastica stampato che diventa soggetto pubblicabile vedi l'elemento del posto, cioè la persona del posto che dice io abito qua, è vero lì sopra c'è questo, lì sopra c'è l'altro per cui quella persona proietta in alto quello che vede su una prospettiva piatta perché la conosce e a sua volta è evidente che quella persona attraverso quel disegno può dare le stesse informazioni al turista alla persona che arriva da fuori, alla persona che si incuriosisce per cui chiunque può diventare guida del proprio territorio perché lo conosce ma lo vede, lo vede e lo riconosce al meglio questo vuol dire nel disegno togliere le linee elettriche togliere le strade messe male cioè bene o male è una riduzione degli elementi al meglio senza però trasformazione grazie 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 grazie